Cento anni di vita per l'Unitalsi in Emilia Romagna. In questo importante anniversario è stato promosso un convegno regionale domenica scorsa in seminario dal titolo L'Anno della Fede, i testimoni. A guidare le riflessioni Monsignor Adriano Caprioli, Vescovo Emerito di Reggio Emilia e Guastalla. Una figura importante è in tutto Abramo, il cammino di fede del popolo della promessa che poi diventa anche dell'alleanza, è esattamente la figura di Abramo, non separabile poi anche dalla figura di Sara. Abramo è stato uno che ha creduto, ha obbedito nella fede, ha una promessa innanzitutto. All'incontro, prima della celebrazione eucaristica, è intervenuto anche l'assistente ecclesiastico regionale Monsignor Guiscardo Mercati, che ha parlato anche della devozione mariana di Papa Francesco. Credo che universalmente sia espressa questa gioia nel vedere così, come Vescovo di Roma, questa figura così semplice, umile ma allo stesso tempo forte. Mi ha dato questa sicurezza, una sicurezza di un uomo che ha ben chiaro una cosa, che nella Chiesa ognuno è pietra viva. Lui è chiamato ad essere una pietra significativa, ma ha bisogno che ci sia anche tutto l'altro edificio, tutte le altre pietre. A tutti i cristiani, ma anche a tutti gli uomini.